perché chiaramente minorenne non vuole sporsi e Matteo invita Salvini a provare a mettersi nei panni di un migrante, lo invita a stare su una nave in mezzo al mare per giorni e giorni, lo invita a stare anziché in una casa con l'aria condizionata su una nave dove ci sono 41 gradi, lo invita a fare questa vita non per un giorno ma almeno per due e forse dopo anche Salvini potrà cambiare, è il pensiero di un bambino e speriamo che sia così. Se non ci sono altri interventi concludiamo, vi ricordo che la cassetta per le offerte di SeaWatch è in mano a Manuela quindi per chi...